Di che cosa si occupa Hawaii? Hawaii vuole migliorare l'assistenza ai clienti delle aziende, in particolare delle aziende e-commerce che vogliono seguire l'utente durante tutta la navigazione tramite un motore semantico in grado di comprendere il linguaggio naturale. Oggi avete partecipato a RU Open, l'evento di Team V-Cup Bologna, agendo in prima persona come protagonisti. Effettivamente, che cosa avete realizzato per Team V-Cup oggi? Per Team V-Cup eroghiamo il servizio Hawaii, cioè assistiamo tutti gli start-up potenziali tali che vogliono candidarsi nel migliorare la candidatura, quindi ci domandano, noi offriamo la risposta migliore per ottimizzare i tempi di compilazione, comunque per capire qual è il mercato, qualsiasi domanda che un start-up farebbe all'operatore, comunque a Working Capital. L'evento di oggi è stata anche l'occasione per lanciare la Call for Startup 2016. Quali consigli ti senti di dare alle giovani start-up e ai nuovi start-upper che si approcceranno Team V-Cup? Uno dei consigli principali è il tempo, non sprecate il vostro tempo, utilizzate nel meglio possibile per riuscire a entrare nel mercato, testare la soluzione e vendere il più possibile.